oh c'è refill vieni chi è refill? oddio che è? che è? il talachilla ma chi è stato? bella ragazzi sono GK01 eccoci in un nuovo episodio siamo in compagnia di Alex bella e anche di Sonny ciao dai raga distruggiamoli vai apro il culo vai io pure dai l'accetta zi dai così io già sto là raga non ho preso niente al centro eh adesso sto dietro io sì ho preso un'accetta e un elmetto di mierda c'ha vede la spada? io no sto d'armatura io nemmeno quella vai prendi l'acqua vai prendi l'altra cesta vediamo anti c'è uno che ci insegue spero che non ha niente te c'hai la spadale si bravo killalo io bio le ceste tieni ah no non ne hai abito chi ha uno stick? è uno stick e io no oh Sonny dove stai? non è che è morto per carmi no Sonny dove sei? non so hai ucciso il tuo amico è morto? no no dove ho ucciso l'ho ucciso oh Ale vai aprire la cesta quella all'ultimo piano si vado su eh si ma comunque ragazzi volevo ringraziare questo navo di di Ale che mi ha fatto la grafica per il mio bellissimo canale eh eh si andatela subito a vedere la grafica si ho già preso tutto io Sonny si io sto a aprire la cesta è a cuvola eh bravo poi scendi dopo che l'ho presa no aspettatemi non fate i questi belli uffa Sonny che te rubi le cesta ma dove sta sta cesta scusa? se no lo sai allora perché c'è santo il bar oh ma crafting qua non c'è? no comunque c'ho lo stick sto a cresciato anch'io come stai a cresciato sai ti proteggerò mo te do fuoco mo ti do fuoco ahia perché me ne do fuoco non ti volevo dare fuoco davvero oh vi andamai case viola aspetta sto scendendo scusami eh vabbè poi vai nel ponte del legno ah ok case viola eh si oddio regatta c'è ah ok ah nero ah iqo ma perché ci sapete una crafting allo spawn si o stanno sempre c'è uno dietro dove? dove stai? non è che so io può essere che ah sei tu no 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 spero aiutatemi ci avete tutti la spada si ma ci ho visto tipo un furferro si anch'io oh là c'è uno andiamo a chi là ah no è questo il lamo questo siamo in tre raga questa succa oh chi è che mi mena relax salto fermo tu sta già fuori raga lascialo no picchialo picchialo lascialo facco giù la mia fermo oh no ma chi là dai no no è amico fermi eh dai pillalo tutti i miei ci cercheranno nei video in zero eh lo so ma chi ne sapevo se no lo mettevamo in chiamata però non lo sapevo che stava in sta mappa come vi stanno ancora dai la morfida dai oh poi vi killa eh io lo dico eh sul ferro è messo meglio di voi voi state fuori eh non lo da me presto per fuori ferro no no oh 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 chi è che qui è quel mona che mi ha dato oh 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 no mi dare che sta andando fuoco eh chissà perché ti vuoi ma pre no vabbè andiamo a un spawn che mi faccia la spagnia avanti poi si chiuditi ma va se no se ti uccidi oh oh che è andiamo a un spawn regà ma devo aver team da quattro no però uccidiamo la salto dopo eh si tipo tipo no 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 ma dove ti fai la spagnia avanti ma vuoi tipo armatura a un vi piace che non va a mettere eh io non spieghi niente quello lo pillerò io lo pillerò io oh quello è mio quello è mio oh neanche ho fatti la kill dai arco schifo c'ho due cuori mi devi fattere la kill è mio è mio è mio sono peggio di over regà guarda la spada in che età sei fatta la spada no niente di che giusto in diamante ah ok proprio merda oh sei in dove la spada in diamante è la vendetta è la vendetta mi spiace te mi hai lasciato con duori oh tu lo sei meritato ah ragazzi voglio dirvi una cosa che è molto importante regà molto aspetta che me la so scordata aspetta ah no di agli da parte no no si ma la so ricordata aspetta ma la so ricordata allora sono un po' di video che sto mettendo la musichetta di sottofondo fatemi sapere nei commenti se è meglio peggio quello che volete capito e fatemi sapere pure se se sogna un nabbo cioè in realtà già lo so è anche Jake che entra nel fuoco raga basta dentro la gente però oh bago sto fuoco non c'ho niente oh mi serve a madura non c'ho vita fermi oh oh ma chi sto fuoco chi è che ti picchia oh oh tanto staffa con l'arco sennò v'ammasca e io c'ho 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 no sei ancora oh diti smettila sono oh io puoi scrivere pure te mica c'ho solo io come si chiama oh perché non lo vedi c'ha il nick c'ha il nome sopra la testa che figata mi sono che devo riavviare il computer dopo questo video oh fermi no ma mi sono di niente sotto fuori poi se mi uccide io 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 scappo ok hai crashato sonny rega dai bene ma uccide oh c'è uno ma che te lo guardi quanti guardi hai 3 eh scappo allora mazza questa è la tua parola scappare e muo prendo io eh mettite l'armatura mettite tutta l'armatura ma c'hai tipo cibo io eh sì sì c'ho solo l'angure che mi serve uffa andiamo a romper un po' di foglie che mi serve cibo uffa ah rega perché voi dovete sapere che se rompi le foglie ti danno un pollo cioè sonni cioè sonni ti danno oh ho trovato solo ah no no ho presi tre dei foglie me ne ero accorto e un cocomero che è quello è tale ma oh se vi è uno da dietro e me chilla mentre sto a fa spesa spacco tutto pollo oh c'è uno ho visto non so chi è ma ho visto uno sta sotto di me ho visto uno che stava a salire a scale di legno oddio mannaggia no no c'è uno c'ho un po' la vita io vieni al centro vieni che c'ha chi laura no non è vero sì c'ha le hack c'ha le hack non è vero no oddio c'ho a casca oddio ma dove stai? sotto tu sorella no dove stai qua via via ti do un po' di cose via via che ti do la spaduna in ferro via al centro eh che non ti serve no vabbè però ti do un po' di armatura oh basta casca mi do tocca a scala 40 euro dove stai? al centro al centro te che? eh del via via ah mangiace tutto ti è te do l'ermetto si però te ti muove Kiko c'ho lo scatole pratico ti manda si sei in grado oh quanto manca il get match eh se ho un 4 ah regà comunque questa volta è il primo a morire è stato sogno hai visto? si è crashando ah è vero ma è arrivata la prima volta che sono arrivato in finale ma se in tutto ne vinti tre no dico nei video ah ah si scusi no 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 dai se vinco questa arriva a 200 vittorie Tonde, tonde Ti volevano essere Sì, fatti Fatti del mondo Come ero il tondo? Mi hai detto Oh, c'hai refill Dai, mi frego tutto E non te do niente Oh, c'hai refill, vieni Ti rifi Oddio, che è? Che è? Che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ma che è? Ti, ti, ti Tu Ma chi è stato? Ma non c'è niente in questo cesto Sotto a rocchio Uh, frecce Eh, frecce già ce l'avevo Cibo Già ce l'avevo Anche se Oh, dai, inizia il deathmatch Oh, siamo rimasti Ah, ma pure l'Axat è morto Vabbè, dagli così, va Noi due siamo Sì, siamo noi due e un altro Secondo me vince, Ale Eh, lo so È troppo forte Ale, è proprio una strada di niente Oh, ti stanno anche per culo, eh, Ale Eh, lo so Io un po' facevo di me, dagli Sì, da, 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 scherzo Da, 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 da Mi spica da una sembra Eh, fate di, ah, via È messo ma io È messo come noi, adesso Eh, sì Oddio, è iniziata? No Aspetta, levate che gli dirà possiede veleno così quando inizia a perde vita Ecco non so se l'ho preso però No mi è preso al culo Vai andiamo No non l'ho preso Ragazzi come vedete c'è una bella Oddio Va a fuoco Ma chi è perché mi freccia a me Ma c'è proprio la mira al culo Ecco io vado a fuoco da solo Oddio no Fermi Fermo Che fai Cosa mi ti uccide No Oh fermo E non fai Oh madò guarda che nabbo Mi voleva killa a tradimento Ma perché non ti fanno uccide Sì sì mi fanno uccide Siete due Eh sì siamo in due Però magari poteva aspettare un attimo Aspetta adesso Aspetta un attimo Ok va aspetta 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 Oh sto ad aspettare Ti giuro che Oh Sul serio Sì sì sul serio Oh Oh non fare una buona di schifo eh No 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 Non lo faccio 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 Non mi fido Non mi fido Non lo faccio No si è fatta pure aziende a maternabbo Vai ma vai cosa addirittura mi hai preso ah no prima mentre dovevi kill all'altro mi hai preso 40 volte che frecce no una volta vabbè due volte vabbè male quante frecce ho fatto oh il provarco oddio ci sta un po' da su oh porco schifo 10 oh do prese 40 volte con questo arco no che hai vinto no sei un nabbo no 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 goto hai vinto Jake no ancora no si quanti po' ne avevi 5 hai vinto ora si 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 vabbè non credo di video va si 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 ok ragazzi questo video può anche finire qua alex è stato disfunto pure questa volta ma vabbè ma vabbè è vero è vero è vero e noi ci vediamo in un prossimo video come al solito vi ricordo di passare dal canale di alex anche se è una merda è una merda si vabbè noi ci vediamo in un prossimo episodio da Jake alex e sonia è tutto bella ciao 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 Grazie per la visione!